WAHE KUJ, ben ritrovati alla vostra andrea in crematone in questo nuovo episodio di Animal Crossing New Horizons con il recente update è tornato sull'isola il famigeratissimo volpolo una volpe tutta rossa che cerca di venderci opere d'arte a volte fasulle, a volte originali secondo me non sa neanche lui quali siano quelli originali o quali quelle false ma arriverà sull'isola, si aggirirà con fare sospetto e dopo aver parlato con lui proverà a venderci un'opera d'arte l'opera d'arte in questione è vera l'unico problema è che ce la vuole far pagare quasi 500.000 stelline noi diciamo di no e allora magicamente il prezzo si abbasserà a 4.980 a quel punto compriamo l'opera d'arte, la portiamo al museo Blatero l'accetterà, il giorno dopo inizieranno i lavori di ampliamento del museo e quindi resterà chiuso ma una volta finiti i lavori di ampliamento volpolo tornerà sull'isola e potremo, parlando con lui appunto cercandolo sull'isola potremo andare a vedere quello che ha da vendere una volta saliti sulla sua barca vedremo insomma tutte quante le opere d'arte che ha esposte e anche qualche mobilio per i mobili non penso ci siano problemi mentre per le opere d'arte bisogna stare attenti a quello che si compra per esempio qui vediamo una donna con ermellino il quadro è un falso si può notare dalla faccia dell'ermellino quello che non sembra neanche un ermellino a dire il vero comunque sia per riconoscere le opere d'arte ci sono piccoli particolari che le tradiscono e se non siete esperti basta andare su internet e appunto vedere non proprio se non conoscete i nomi le opere d'arte ma quantomeno la wiki di Animal Crossing dove ci sono tutte quante le foto vere e false delle opere d'arte che Volpo lo vende a quanto pare qualcuno ha già completato tutte quante le opere d'arte quindi non ci sono problemi per andare a vedere insomma quali sono vere e quali false ma bene o male se ne conoscete alcune si vedono facilmente ora io acquisto questo quadro della donna con ermellino o quello che dovrebbe essere tale in realtà è falso è falso e lo porto a Blatero giusto per prendere uno degli obiettivi dell'Emilia Nook però prima insomma diamo un'altra occhiata sulla zattera di Volpo lo ha delle opere anche la lupa che allatta Romolo e Remo mi sembra che anche l'uomo vitruviano sia falso ma se non erro dovrebbe avere un'opera d'arte originale e due false oltre a Mobilio quindi penso che la lupa sia quella originale ma non ho controllato quindi ne fa niente per questa volta mi prendo quella fasulla tanto Volpo lo c'è ogni giorno e quindi insomma male che va sprecate delle stelline se proprio non siete esperti e volete fare di testa vostra però io ve l'ho detto c'è la wiki andate a controllare lì lo porto a Blatero Blatero mi dice non è originale e pam obiettivo Emilia di Nucca raggiunto è solo uno quindi insomma tanto valeva farlo e sprecarci un po' di stelline ma fa niente dai e una piccola occhiata al museo ampliato ci voleva infatti il primo quadro quello che ho donato vedete è esposto qui al museo è originale e Volpo lo si il primo quadro è sempre originale penso che il più comune sia la Mona Lisa però io ho ricevuto questo quadro organico e quindi me lo tengo così com'è bellino bellino e niente proprio di meno che di darci in boldi non so se ci siamo capiti comunque sia Kug per questo piccolo video è tutto io come sempre vi ringrazio vi ricordo ovviamente in descrizione che c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi ci vediamo come sempre al prossimo video bye bye dannatissimo Volpolo a